Cominciai ad allenarmi col mio nuovo compagnuccio, Mr. Steroide. Più forte! Più forte devo diventare! Più forte! Mi servivano altri steroidi, ma non avevo più soldi, così esfolitai un astuto piano per trovarli. Sponsorizzami! Sponsorizzami! Guarda... tutto quello che ho... Sponsorizzami! 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 Non capivo cosa stesse combinando Captain Nero. Dovevo fare delle prove. La cosa era inquietante. Erano steroidi. Clara! Woldur? Quando sei uscito? Clara, l'unica consolazione in tutto il tempo passato in guardiola di sicurezza trattino oggetti smarriti è stato un pensiero. Te e il chiosco di limonata. Oh, eh... io, ehm... Ecchio mio, salve! Wold... cosa? Woldur? Ci ha cuccati! Woldur, io non avevo idea di quanto tu saresti rimasto al fresco e così... Mi avete travito! Come avete potuto farlo? Capitan Nero era nei...